Se oggi parliamo di eccellenza a Messina, proprio in questo momento stiamo parlando di una tecnica di trapianto che è nata a Messina. Quindi non vorrei mai che le evidenze della cronaca, che vanno ovviamente attenzionate, possano trasmettere a chi ci ascolta la sensazione che tutto va male quando non è così. Se oggi siamo qui con alcuni dei più importanti luminari italiani che si occupano di trapianti e che raccontano di ciò che si fa non soltanto nei loro territori, ma di ciò che si fa anche nella città di Messina vuol dire che stiamo parlando di un sistema sanitario che è vivo e che è vitale. Sulle isole Oli abbiamo convocato un vertice la scorsa settimana, io non amo mai commentare le notizie di cronaca, farei lavorare il tavolo tecnico e valutare le conclusioni a cui giungerà. Dobbiamo parlare di quello che abbiamo già detto alcune settimane fa a Messina, entro il mese di giugno arriveremo all'approvazione della rete ospedale.